Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Malore per Loredana Bertè nella serata di ieri, mercoledì 30 agosto 2023, Loredana Bertè avrebbe dovuto concludere il suo tour estivo esibendosi a Catania, ma, come riportato da ilmessaggero.it, la nota cantante è stata costretta a dare forfè a causa di un malore accusato poco dopo essere giunto in Sicilia. A spiegarlo è stata la stessa Bertè sui social network, aggiornando tutti i suoi fan sulle sue condizioni di salute e sul perché è stata costretta ad annullare l'ultima data del suo tour. Sui social ha scritto di non essere stata affatto bene nel corso della notte a causa del riacutizzarsi dei problemi gastrointestinali, oltre ad una forma influenzale che l'ha lasciata senza forza e senza voce. Dopo aver annullato il concerto di Catania, Loredana Bertè ci ha tenuto a scusarsi con i fan catanesi, sottolineando il suo dispiacere per la cancellazione dell'ultima data. La Bertè ha spiegato di essere arrivata allo stremo.